Signore fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi Signore fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi Cristo risorto, buona giornata carissimi amici Continuiamo la lettura del Vangelo di Matteo e come vedete oggi alle spalle ho la neve che è scesa su Bielmonte nella nostra zona Vallestrona e che ci accompagna nell'ascolto di questa parola Matteo 7, 21, 24, 27 Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande Amen E leggiamo insieme anche il profeta Isaia che ci viene proposto oggi al capitolo 26 In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda Abbiamo una città forte, mura e bastoni e li ha posto a salvezza Aprite le porte, entri una nazione giusta che si mantiene fedele La sua volontà è salda, tu le assicurerai la pace Pace perché in te confida Confidatene il Signore sempre Perché il Signore è una roccia eterna Egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto Ha rovesciato la città eccelsa L'ha rovesciata fino a terra La rasa al suolo I piedi la calpestano Sono i piedi degli oppressi I passi dei poveri Amen Ecco carissimi oggi Queste due parole Il Vangelo di Matteo e il profeta Isaia Ci stanno aprendo la strada Ci stanno aprendo la via La via della fede Se da un lato Gesù dice che chi ascolta queste sue parole Le mette in pratica È come un uomo che ha costruito la propria casa sulla roccia Che di fronte alla pioggia che sta scendendo adesso Alla neve Alla bufera Che cadde su quella casa Ma quella casa non cadde Perché era affondata sulla roccia che è Gesù Dall'altro aspetto abbiamo il profeta Isaia Questo capitolo 26 meraviglioso In cui si dice proprio Si parla di un canto Nella terra di Giuda Quindi a Gerusalemme Un canto che sorce E di solito si canta per la gioia Si canta per l'esultanza Si canta davvero quando qualcosa va bene Possono esserci anche momenti un po' più tristi Ma il canto è tipico di colui che sta bene Tipico di colui che ha qualcosa da dire Al mondo e agli altri E qui si dice Cantiamo che abbiamo una città forte Mure e bastoni apposto a salvezza Ecco aprite le porte Entri in una nazione giusta E questa è la gioia Di coloro che attendono la salvezza Sempre in queste promesse Del re che deve venire Del re della discendenza di Davide Questo germoglio dal tronco di esse Allora c'è l'esultanza di questa attesa Isaia dice Tu assicurerai la pace A questa terra A questa nazione Pace perché in te confida E lo prendiamo in ebraico Questo termine shalom Oggi proclamiamo shalom Proclamiamo la pace per la nostra vita La pace per le nostre case La pace per le nostre famiglie Perché pace? Perché noi confidiamo nel Signore Isaia 26 è chiaro Confidate nel Signore sempre Perché il Signore è una roccia eterna Quindi siamo nella settimana della speranza La settimana della candela Di avvento dei profeti Isaia quindi ci spinge a sperare Ci spinge a confidare nel Signore E chi confida nel Signore dice Poggia i propri piedi Su terraferma Sulla roccia Avrà una base stabile La propria casa Amen? E questa è la notizia più bella E quando la casa poggia sulla roccia Trova la pace 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 Dice il versetto 4 Insieme al versetto 3 Perché in te confida Tu o Signore Le assicurerai la pace Quindi come avere la pace Pace che è shalom E noi la prendiamo molto di più Non solo una pace messianica Ma anche una pace del risorto Perché Gesù quando risorge E si manifesta ai Suoi discepoli Nel Cenacolo dice Shalom Pace a voi Vi lascio la pace Vi do la mia pace Non quella che il mondo vi dà Ma la mia pace La pace di Cristo Non è una pace Che significa sonnolenza Dormiveglia Una pace di dire Oddio Come oggi stiamo No È una pace che è vittoria Vittoria sui problemi Vittoria sulle situazioni Che ci stanno schiacciando Sulla pioggia che c'è Sulle bufere della nostra vita Sui terremoti Ecco la pace messianica La shalom del Cristo risorto Amen E allora insieme lo chiediamo Per noi Per le nostre famiglie Per le nostre case Vieni Signore Gesù Maranatà Entra oggi nei nostri cuori Con la Tua pace Perché noi confidiamo in Te Vogliamo proclamare ancora una volta Che Tu assicuri la pace A coloro che in Te confidano Signore E noi confidiamo in Te Oggi, domani e sempre Perché Tu sei la nostra roccia eterna E chi confida in Te Non rimarrà deluso Per questo Ti affidiamo ogni intenzione Ti affidiamo le nostre debolezze Le nostre fragilità Le nostre miserie Perché Tu possa intervenire Con la Tua abbondanza e generosità A Te Signore A Te Signore L'onore e la gloria Nei secoli dei secoli Amen Carissimi amici Confidiamo nel Signore sempre Perché è una roccia eterna Grazie che mi avete accolto Ci vediamo domani Ciao A presto A presto Signore fa splendere il Tuo volto E noi saremo salvi Dio degli eserci